Ciao raga! Oggi mi vendicherò. L'altra volta mi ha fatto lo scherzo in cui mi tortura che io non lo sapevo e oggi mi vendicherò. Allora, oggi farò torturo Giuseppe. Oggi 20.000 like e faremo, dico solo sì. Giuseppe dirà solo sì e io dirò solo sì. Quindi raga, incominciamo. Dove sta parte? Oddio! No, niente, niente. Ah, ciao! Ok! Ma volete che facevi un video strano? Ah, ciao! Che cosa? Basta! Basta che cazzo! Non fai malissimo. Basta, Pekko, basta! No! Basta che cazzo! È un video! Non prego, basta! Pekko, chi è? Ah, Pekko, fa male! Che cosa vuoi fare? No, è lì per cazzo. No, niente. No, non cazzo. No, non cazzo. No, non cazzo. No, è staccato. Ma tocca a lui, dai. Pekko, non ha giocato. Vabbè raga, finisce quelli che... Ciao! Ciao! Ciao!